Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Branco di Lupi attacca un greggio di pecore a colli al metauro ed è strage Era chiede di pagare una bolletta arretrata ad un cliente di Sadori ma qualcosa non torna Fratelli d'Italia attacca il sindaco di Fanno Seri su sanità, sicurezza e degrado E tra poco il sindaco in diretta su Fanno TV per rispondere alle vostre domande Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Buonasera, benvenuti cari telespettatori di Fanno TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione Un nuovo attacco da parte dei Lupi ad un greggio di pecore Questa volta è accaduto a colli al metauro nel pesarese Guarda arrivano i Lupi sulla campagna addormentata, hanno fame e sono in tanti Sono i versi iniziali della canzone i Lupi del compianto cantautore di Nova Feltria Ivan Graziani Ma si possono tranquillamente utilizzare per raccontare la vicenda del signor Serallegri Un serafico pensionato che abita in campagna a colli al metauro nella frazione di Calcinelli A cento metri dalla Flaminia e che l'altra notte ha avuto alle prime luci dell'alba Un incontro ravvicinato con un branco di Lupi che gli avevano appena sbranato quattro pecore Nel recinto a pochi passi dall'uscio di casa È successo che ho sentito il rumore di notte ma non mi sono alzato subito perché c'è perico magari E quando mi sono alzato la mattina a 5 e mezzo ho visto tutto quello che c'era morto qui proprio a fianco alla casa Però i segni sono stati... Sì, 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 l'ha detto anche il veterinario, l'ha detto che sono i segni del lupo via Poi si vede tutto qui è presa proprio... Dopo li abbiamo visti anche, erano tre, li abbiamo visti lì lungo la rete C'era anche un amico mio, così era E sono delle belle bestie, non so, vorrei che adesso fassi delle persone, avevo pure i bambini, non so Serallegri teneva le povere bestie per puro diletto come anche altri animali da cortile di sua proprietà Non erano una fonte di sostentamento come in altri casi Ma qui a sentire i residenti certe incursioni sono all'ordine del giorno E allarmano, non poco E anche lei, c'è gli animali, anche lei ha tracce di visita Sì, 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 tutte le notti ho la volpe, se esce un pollo dal recinto non fa più rientro Perché anche di giorno poi si vede che aspettano lì fuori il momento giusto opportuno E' lo stesso il lupo, nonostante che siamo diciamo in pianura vicino al fiume Anche da noi c'è poi una guardia provinciale, l'ha visto proprio lì di là dal fiume da noi L'ha visto lui di giorno, perciò è un problema grossissimo Un turista pugliese originario di Trani, in provincia di Bari, in vacanza a Numana Si è perso oggi durante una escursione sul Monte Conero in località Sassi Neri L'uomo che ha avvisato con il suo telefono cellulare ai carabinieri è stato rintracciato e recuperato dai carabinieri forestali Grazie anche ad un'applicazione del telefonino che ha permesso la sua geolocalizzazione Il turista ha dichiarato ai soccorritori di voler raggiungere a piedi la spiaggia delle due sorelle Ma di aver imboccato un sentiero non tracciato, sterrato, che si perdeva nella vegetazione A quel punto, non riuscendo più a orientarsi, ha lanciato l'allarme Adesso parliamo di sanità, sicurezza, degrado Sono i punti sui quali Fratelli d'Italia ha puntato il dito contro il sindaco di Fano Massimo Seri Il PD regionale, soprattutto il PD fanese e l'amministrazione comunale serie abbiano tradito gli interessi di Fano e dei fanesi Lo abbiano fatto nei confronti dell'ospedale Santa Croce Che è in via di smantellamento, purtroppo Ma ha tradito, questi personaggi hanno tradito anche la città di Fano Sul tema sicurezza e di qualche giorno fa Il grave episodio di tentata violenza ad opera di un immigrato Nei confronti di una giovane minore Avvenuto proprio nei pressi della stazione di Fano E quindi proprio all'interno della città E questo episodio riporta a galla le responsabilità del governo Sempre a targa PD In tema di immigrazione senza regole e senza controlli In tema di forze di polizia Quelle forze di polizia che tramite i loro sindacati Hanno denunciato qualche giorno fa Di essere abbandonate, di essere umiliate da questo governo E di non avere più nemmeno i mezzi E gli uomini per far fronte a questa scalation di criminalità Toni accesi, quelli del segretario provinciale di Fratelli d'Italia Sui temi della sanità, sicurezza sociale e buon governo della città di Fano Baldelli e Pollegioni non le mandano a dire al sindaco Seri Dopo che sul destino del Santa Croce Ormai, a loro dire, è stato cantato il De Profundis Le strategie del primo cittadino Sul modo di affrontare il tema dei mendicanti e parcheggiatori abusivi Con dialogo e conoscenza del fenomeno Non convincono il coordinatore fanese Che chiede serrati controlli e azioni concrete Perché il problema dell'immigrazione clandestina È una pentola a pressione pronta a esplodere Noi siamo sicuramente stufi delle prese in giro di questa amministrazione E di Seri Che sta facendo delle battaglie Ormai fazze che non hanno nessun tipo di riscontro Perché inascoltate dal Presidente della Regione Tant'è vero che la dimostrazione Che la testimonianza che Seri ci sta dando E la sua amministrazione del PD In questo momento è quella di aver sposato la linea Del sindaco Ombra Minardi Di Ceriscioli E del sindaco di Pesaro Ricci Questo comunque anche a testimonianza del fatto Che il sindaco Ricci nel silenzio fa crescere Muraglia Muraglia cresce Mentre invece Seri con le sue letterine d'amore Al Presidente della Regione Fa sì che il Santa Croce ogni giorno venga smantellato E sul tema della sanità interviene oggi anche il Movimento 5 Stelle Allora la sanità è un tema che insomma non accena a diminuire come intensità Voi che cosa vi prefigurate per Fano? Insomma negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una polemica Che è andata avanti a mezzo stampa per diversi giorni appunto Tra centrodestra e centrosinistra Che si sono accusati reciprocamente per la situazione attuale Che è una situazione che vede il Santa Croce Ed è potenziato e probabilmente lo sarà ulteriormente nel futuro A noi preme sottolineare che gli strali che si sono tirati Dipendono dal fatto che entrambi sono responsabili per l'attuale situazione La vecchia amministrazione perché ha accettato di fatto Con la realizzazione di Marche Nord La costruzione di un unico ospedale Che impediva quindi il funzionamento degli altri ospedali Che erano destinati alla chiusura E questo in effetti sta proprio avvenendo Anche se hanno cambiato il linguaggio Adesso lo chiamano nuovo ospedale Ma la sostanza in sé non cambia Per quanto riguarda il centrosinistra Invece contrariamente a tutte le dichiarazioni preelettorali Del sindaco Seri Si è battuto veramente pochissimo Per mantenere i servizi pubblici Nel nostro territorio Nel nostro ospedale E lo vediamo anche dagli ultimi atti Che sono stati approvati in Consiglio Comunale Insomma noi riteniamo che l'unica vera forza politica cittadina E non solo che ha difeso strenuamente la sanità pubblica È il Movimento 5 Stelle a tutti i livelli Dai parlamentari, consiglieri regionali, consiglieri comunali Di tutta la provincia, ma oserei dire di tutta la regione E addirittura anche i meetup I nuovi gruppi che si sono costituiti Stanno portando avanti tante iniziative Che vadano in questo senso Perché dove ci sono i cittadini Che hanno delle istanze Il Movimento 5 Stelle c'è E porta avanti con loro le battaglie in cui crede Progetto Fano e Udc invece Hanno presentato ieri Una interrogazione al Sindaco Per sapere che cosa intende fare Nell'area dove prima c'era il Lex Dove c'era il distributore dell'Agip Il distributore di carburante 50 parcheggi per auto a ridosso di una via commerciale Del centro di Fano E una scuola molto frequentata Come le Corridoni Sono un obiettivo minimo per Progetto Fano Che assieme a Udc ha presentato Un'interrogazione sui tempi di bonifica Dell'area in Viale Gramsci Ex distributore di carburanti Sul cui utilizzo finale Non c'è all'orizzonte Un'area che invece dovrebbe essere Un biglietto da visita Perché siamo proprio prospetto del centro storico Quindi chi arriva Fano Passa qua Passa qua e purtroppo La situazione sono tre anni Che è in questo stato Quindi aspettiamo Vedremo Faremo Ma fino adesso non è stato fatto niente La presenza massiccia È a partire da settembre Nelle ore topiche della giornata Di mamma e papà Che prelevano o portano I loro figli a scuola Induce Secondo chi ha presentato L'interrogazione Ad una profonda Ed attenta riflessione Noi come abbiamo già detto Ci auguriamo che qua Vengono fatti almeno Una cinquantina di posti auto Anche perché Soprattutto in inverno Quando ci sono i genitori Che vanno a prendere i bambini a scuola Qua sappiamo benissimo Che diventa un punto Molto pericoloso Sia per i bambini Per le famiglie Che li vanno a riprendere Ma anche per chi transita Da questo parte Perché ci sono macchine Parcheggiate ovunque Quindi credo Che la città Abbia veramente bisogno Di almeno Una cinquantina di posti auto In questo posto E adesso Parliamo di bollette E vi facciamo ascoltare La dichiarazione Di un trentenne Che risiede a Colli Al Metauro E la sua disavventura Con Era Allora siamo a casa di Andrea Che ci ha chiamato Perché Spieghiamo un po' l'antefatto Tu sei anni fa Abitavi da un'altra parte Avevi un'altra utenza Legata al gas Adesso sei qui a Calcinelli Siamo nel 2017 Hai un'altra Un'altra ente Che ti segue Dal punto di vista Del gas Hai ricevuto Una bolletta Che ti ha messo Un po' Sull'allarme Perché? Allora in pratica Mi è arrivata Questa bolletta Che è una bolletta Nuova di un contratto Fatto il primo aprile 2017 Con questo importo Esclusivamente gas 338,26 euro Ho scoperto L'arcano Della cifra Facendo una serie Di telefonate E ho scoperto Che in questo contratto Nuovo Mio Personale Con Era Com È subentrata Una vecchia azienda Della zona Che si chiamava Si chiamava Salori gas Ok E A detta di Era Loro sono incaricati Di riscuotere Questi 338 euro Per conto di Sadori Stiamo parlando Di robe del 2011 2011 Sì In pratica Nel 2011 Ho lasciato un appartamento Io vivevo a Tombaccia Vivevo E questo appartamento Poi non è stato più Occupato da nessuno Abitato insomma Di sicuro Erano delle spese Di un contratto Che io non ho chiesto Di chiudere E neanche la stessa Era Sa dirmi 338 euro A fronte Di che cosa O a che proposito Perché non hanno Le specifiche Il danno qual è Io ho chiesto Di rateizzare Questo importo Al gruppo Era Non me lo fanno Neanche rateizzare Poi parlando Direttamente Con l'azienda Con Sadori Con una delle loro Segretarie Ho scoperto Che secondo loro Questo è un abominio Perché loro Non hanno mai Ceduto crediti A Era In più Salori gas Non esiste più Distribuzione Adesso Si occupano Di tutt'altro E non hanno Alcun rapporto Con il cliente Finale Quindi anche se io Vado a pagare Questo importo O rateizzato O in qualsiasi Altra formula Anche in contanti Questi soldi A chi vanno? Domanda Più che giusta Tu ti sei rivolto Anche a un legale Per dipanare Questa matassa Come sempre Avviene molto Complessa Che cosa ti ha detto? Ci sono state Delle violazioni Della tua No In teoria La violazione Già c'è qui Perché questa È una tentata estorsione Da parte del gruppo Era Questa Perché loro Non mi sanno dare Le specifiche E un'altra grave Diciamo Non so che sia così grave Però la violazione Della privacy Per primo L'avrebbe commessa Sadori Perché avrebbe Divulgato A mia insaputa I miei dati Al gruppo Era Che il gruppo Era Non è una società Di recupero crediti È una società Di distribuzione Energia elettrica E gas Basta Hanno soltanto Questi dati Ma non riescono A darmi uno specifico Quanti metri cubi di gas Quanto c'è di interessi Quanto c'è di scoperto Dimora Che io devo dei soldi A Sadori Ma non lo metto in discussione Perché questo magari Mi serve da lezione Quando uno lascia Un appartamento in affitto E chiude Casa e tutto E va via Abitare in un'altra parte È meglio darla disdetta Che adesso io non posso Usare il mio nuovo contratto Con Era E non posso rateizzare Questi importi Mi tocca andare Dalla finanza Denunciare a tutti quanti Questo è proprio Un abominio E non so A quanta gente Gli sta succedendo Questa stessa cosa Spese diciamo Che non era mai stato Qui il contratto Beh naturalmente Come sempre Siamo a disposizione Per chiunque volesse Replicare O comunque Dire la sua Intanto A proposito di finanza Il colonnello Antonino Raimondo Lascia il comando Provinciale di Pesaro Dopo tre anni Di intenso lavoro Nei quali le fiamme Gialle pesaresi Si sono distinte Per il costante impegno Nel contrasto All'evasione All'illusione Alle più gravi Frodi fiscali Il colonnello Raimondo È stato trasferito A Roma Per ricoprire Un incarico Di stato maggiore Il comando generale Della guardia di finanza Gli succede Il colonnello Andrea Rizzo Proveniente Dalla capitale Ove Ha trascorso Gli ultimi Quattro anni In servizio Al nucleo Di polizia tributaria La cerimonia Del passaggio Di consegne Tra il colonnello Raimondo E il colonnello Andrea Rizzo Si è svolta oggi Nella sede Del comando Provinciale A Pesaro Alla presenza Del generale Di brigata Gianfranco Carrozza Comandante regionale Per le Marche Ok Allora Andiamo adesso A vedere invece Queste immagini Queste fotografie Sono fotografie Scattate ieri sera Si vedono Intravedono Due vitelli E un vitellino Che ieri sera Intorno alle 23 Girovagavano Per le strade Di Monte Maggiore Al Metauro Nella zona Vicino Al cimitero cittadino Per recuperare Questi due Questi tre animali Due pattuglie Dei carabinieri E l'aiuto Di alcuni residenti Soltanto verso l'una Di notte Una delle mucche È stata recuperata Mentre uno dei veterinari Con un paio di persone Del posto Hanno lavorato Per la cattura Delle altre due Per rintrecciare Il proprietario Del bestiame È stato necessario Controllare Il marcatore Marcatore bovino Che si trova Sulle orecchie Dell'animale E degli animali Il traffico È stato bloccato Soltanto per pochi minuti Quelli necessari Per far attraversare La strada Agli animali Uno di questi È stato catturato Grazie anche a una ciotola D'acqua e mangime Poi legato Per le corna Con una corda Ad un albero Si chiama Elgir Lamenca Ed è in programma Per il 20 e 21 luglio A Ponte Sasso Di Fano Un'anteprima Del festival Del brodetto Che vedrà protagonista Anche Mario Tessuto Autore Di una canzone Molto importante Famosissima Lisa dagli occhi blu Che si esibirà In concerto Nella piccola frazione Fanese Allora Insomma Siamo alle battute finali Vi siete prontissimi? Siamo prontissimi Carichissimi Per questa nuova avventura Che abbiamo iniziato A gennaio Con la costituzione Dell'associazione E adesso Avrà il suo culmine Con la festa Il Giro Lamenca In onda Giovedì e venerdì 20 e 21 luglio Con l'anteprima Del festival Del brodetto La presentazione In anteprima Del piatto del mozzo Piatto tipico Il pasto del mozzo Piatto tipico Di Ponte Sasso Un mix Di tradizione Contadina E marinara Con La rievocazione Storica Diciamo Della Della Menca Figura storica Locale Che era Una postina Raccoglierà E Riconsegnerà Delle cartoline D'epoca Appositamente Ricreate Per la festa Che verranno Raccolte Dalle varie spiagge Scritte quindi Da turisti E locali Come una sorta Di messaggio Benaugurale Ad altri Ad un destinatario Ignoto Ipotetico E quindi Con l'idea Di riceverne poi Un indietro Scritta da altri Questo avverrà Durante È già iniziata La distribuzione Avverrà nei giorni Precedenti E durante la festa A coronare A coronare A dare una veste Più leggera Più Quindi un intrattenimento Musicale Durante le due serate La prima sera Sarà Mario Tessuto Quindi Lisa dagli occhi blu Riviverà dagli anni Sessanta Ponte Sasso Perché avete pensato A questa rievocazione Diciamo quasi storica Perché volevamo Che non fosse Solo una festa Ma qualcosa Di Che avesse Un minimo Di origine Di radicamento Sul territorio E che avesse Anche una funzione Sul territorio Nel senso Un ruolo Sul territorio Nel senso Di ricreare Un legame Con quelle che erano Le nostre tradizioni E le nostre origini Allora Questo era l'ultimo servizio In scaletta Nel nostro telegiornale Ci fermiamo soltanto Per un istante Qualche minuto Di pubblicità Poi ritorneremo In diretta Con Primo Cittadino E qui In questo studio Su questa scrivania Ci sarà il sindaco Di Fano Massimo Seri A rispondere Alle vostre telefonate Dunque Ci vediamo tra poco